i blocchi di salvia solo qui però ciao a tutti che ciò ti bevuti in questo nuovo episodio di fap the bistro lo so che devo ancora smettere ma io sto comunque registrando grazie per la visione e vabbè niente registriamo in due ah ok perfetto oddio che lagata che tirano una cosa mostruosa si passa che smetti di registrare mamma mia che lagata sul serio una cosa allucinante va bene ok grazie per la visione grazie per la visione alla prossima ciao beh no ma che cacchio di questo ancora registrando eh vabbè registra si ok no va bene ma che episodio era quello mio quello dopo il mio e cioè non lo so lo saprai te ho finito tutta l'energia ti rendi conto proprio l'ho finita proprio 0011 punto esclamativo aspetta che accendo il condizionator ventilator 1 1 usando i piedi allora 125 le manovre ftb 125 gg tutto questo qualcuno oh si ci sono riuscito ci sono riuscito dicevo e ora ci serve un tesseract di nuovo oppure potremmo portarci con i conduit l'energia del tesseract della farm di grano eh si vabbè cosa cosa ci metti tanto è là vicino ma che cos'è sta storia cosa ma cosa ma chi è che non ha chiuso sta cosa che cosa ma cosa ma cosa ah se intendi i cerchi beh è normale perchè dei fatti rettangolari ma è una chiocciola che cosa no aspetta voglio registrare aspetta sto riempiendo l'armatura ma arrivo 3 4 5 6 ma sei registrato o no si un attimo ma sto riempiendo la mfs udi vabbè lasciamolo così è pure più figo ah lasciamolo così è fighissimo aspetta vengo a vedere anche se non ha senso ah si che c'è senso scusa basta fa così eh si ma qua non passa l'acqua vabbè sti cazzi what the fu che scuino è tipo i labirinti eh allora vabbè a sto punto fallo fallo così e metti qua eh infatti mettilo qua metti lì e beh rifacciamolo infinite volte e esce figo lol ah no no finito finito ah si lol ok io posiziono la restante acqua come se non ci fosse un domani allora qua l'abbiamo messo qua l'abbiamo messo no perchè non c'è un domani no ha detto come se non ci fosse però c'è si problem allora perchè fai come se non ci fosse vuoi vivere nella menzogna la vita è una mugia è la vita che è una mugia ricordati che devi morire si uno uno ah manco un blocco qui 3dbm ok adesso te ok eh però mettiamo la fonte pure laggiù se no fa schifo poi ok ma cos'è quello zombie con una spada di ferro in mano vabbè niente però non c'è proprio più that's so nice 1 1 aspetta ma come manco un blocco what the fuck mi piace dice eh è un bel ragazzone non era una femmina vabbè nice nice that is pretty nice i must admit that is pretty pretty fucking nice 1 1 punto punto mamma 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 pfff ok adesso che io cadra nell'acqua oh si sono caduto nell'acqua e niente dobbiamo fare l'ar- ma tu l'hai fatto l'arvester no? si si allora prendi questo lo metto qua al centro no 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 allora al posto di questo blocco ci mettiamo il tesseract cosi dà energia senza spiegare spazio facciamo una colonna a un eh se tu lo crafti c'ho il coso c'ho tutte le canne da zucchero intanto le inizio a metto tesseract tu fai tesseract energy tesseract non si piazzano ah qui non si piazzano ah beh è normale perché non è adiacente a un direttamente a un blocco no pensavo che non che non si piazzasse niente sai che figata devi rifar tutto yeee allora tesseract energy tesseract ci vuole una anetutured tesseract c'abbiamo dell'hard nel class ma si ne avremo un casino si vai vai cosa? prendite un po' d'ossidiana un po' di silver un po' di lead no 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 ma ce l'abbiamo già l'hard nel class ne sono piuttosto sicuro piuttosto prendi l'endel pearl prendi l'endel pearl mendel pearl mendel mendel pearl mendel dimmi dimmila sedicesima legge legge di mendel dai vediamo se è studiato eh no sono solo a quindicesima e a diciottesima ah ah vediamo vedo che non è studiato allora devo presumere che non è studiato se sta tutto il giorno a fa pare eh 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 purtroppo si prof eh eh ti posso farlo lo dirò a sua mamma che è colpa di Brent eh ma se è colpa mia cioè non rompa i coglioni è gg eh eh quattro di questi e un diamond ok non vengono a fap dis è veri veri match è veri veri tit aspetta ho preso i 5 ho messo solo qua oddio è tipo da lsd sta cosa cioè se tipo ragazzi da lsd quanto? sembra tipo un trip da lsd tipo vado un blocco avanti e piazzo a sugarcains eh sembra tipo ipnotico se lo vedi in continuazione oddio ma ci vogliono tipo troppi pezzi di canne da zucchero cosa allucinante sembra una piantagione colombiana porca di seria ok ora viene il tizio di Far Cry 3 con il lanciafiamme e parte la canzone la di Skrillex sto a vedere la canzone di Skyrim ma vabbè eh no se vieni a vedere è tipo tutto foltissimo si si ho visto ho visto tra un po' arrivano pure gli schiavi a lavorare la piantagione cioè non lo so ciazzista ma io ho detto schiavi mica tutto va bene lo so tutti che gli schiavi erano di colore nelle piantagioni di colore? di colore? eh? giallo se c'è il coraggio eh scusa nelle piantagioni di riso chi cacchio ci vuoi mettere? eh eh scherzo ovviamente lo so tutti che poi c'è colpa di Brent eh perchè nelle piantagioni di riso perchè è largo? i gomici che i gomici insomma fanno insomma raccolgono riso da tutti perchè cazzo c'è della lava? io ci ho messo del what the fuck perchè c'è della ma che cazzo? ma c'è ma c- ma c- what the fuck ma che cosa? ah ok ora va meglio devo metterci altri due enderpearl sei contento spero? due ben due non una non due due mamma mia de ti ricordi che si grattano con quattro pezzi di ferro? si i don't care la sto facendo e poi ne avevamo 13 nella nella fapp inventario ora una volta avuto quello devo fare l'energy tessera che mi serve un electrum due silver due led led mhm luce a led si perchè non posso te ma che ruba oh ma sta un po' zitto e subìa ecco cosa e non mi fa l'elettrum che non abbiamo non abbiamo l'elettrum l'elettrum si fa l'elettrum manco stessi a craftare gold e silver gold e silver gold e silver non abbiamo più gold lo sai dove cazza è finita chi sa chi l'ha finita eh ah no era qui perfetto allora un gold e silver 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 come at me silver silver punze p mamma mia tu sei cresciuto troppo velocemente canne da zucchero faremo energia perché sono già cresciute no nemmeno una ah cioè però sono cresciute le altre che non servivano interessante no no interessante 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 nananananananananana io odio il lag il problema è che è potente quindi non riesco ad odiarlo abbastanza silver e gold l'elettrum si si lo so grazie complimenti anche a me stesso l'elettrum come at me non cresce nemmeno mezza canna da zucchero dopo ci deve fare una partita lol si si bene eh uso ringer eh nooo vergognati comunque guarda che cresce velocemente eh non per dire ma guarda già ne è cresciuta una e l'ha anche droppata cioè non per dire anche se non c'è la questa è la già droppata ti rendi conto mamma mia che pro eh vorrei dire c'abbiamo un po' di redstone qui a fa niente cazzo no 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 cos'è apriti porta apriti perché il lag non mi fa aprire le porte ok vai col jetpack da sopra mad you mad eh no dopo devo scendere le scale ancora ancora più casino ok posso farlo posso farlo no aspetta dove cazzo è finito non ho più oddio dov'è? no no dimmi che ho perso la cosa principale per fare la cosa che non serve ma lol dove c'è qualcosa per l'illumination eh ma usiamo le lampade della red power quella è la figa e con come si chiamano così iniziamo un attimo non sto scherzando ah ma quale l'inverted lamp quelle tipo eh ci sono le ah no lamp punto eh vabbè ma c'è inverted eh mettiamo quelli in lamped vabbè ma perchè che differenza c'è rispetto a quelle normali scusa niente sono tutti due blocchi ok ok questo tesseract riceve energia piacciaci 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 ciopra la coca tu piacciaci ciopra la coca ci ci me banana oh ma che cos'è questo ma perchè sali su sta roba ma è bello che prima ho fatto una partita a payday no che ho registrato però non è che laggasse così è colpa del server mi sa no decisamente no no colpa del server vabbè ma nel nel server c'è vrent quindi eh beh perchè sto in minecraft e minecraft mi sta ciucciando tutta la la banda ok ok è l'unica spiegazione plausibile ti rendi conto vero allora io faccio un po' di lamp di che colore le facciamo aspetta 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 ma qua abbiamo bisogno di una enderchest ora perchè con gli stessi colori che dovrò fare io ok eh stessi colori ovvero grigio 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 ma perchè tanto la lana 50 assumature di grigio oddio no lascia stare cioè poi rettano nemmeno mai letto ne anch'io ma shhh non so se se ci chiederei perchè che cosa parla tu lo sai no bene ah perchè tu non lo sai nemmeno va bene no non si può nemmeno dire nel v c'è non se ne può nemmeno parlare mmm quanto è censurabile ah allora me lo leggerò eh sembra interessante cioè soprattutto se è facile dovresti leggere troppo sul serio? interessante si si ehm sooo now we need to do quattro blades ce l'abbiamo la blades si? no no non ce l'abbiamo e tu cazzo è? ce l'abbiamo del coso industrial craft della farm infinita ah no 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 è qua è qua è qua è qua è qua abbiamo cinquanta pezzi di blades quante lampa famo di queste? ah non lo so fanne un po eh vabbè ne faccio di po' a male senti io ne faccio troppe troppe quante? spero non troppe eh invece si eh per ora so 8 sembra male come cosa no? ah qua c'è la lana grigia eh della projectable in basso a destra bene 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 dove è? in basso a destra qual'è la destra? ok bene no questa non è grigia questa è light grey è diverso non è che poi è quella è quella che ho usato are you sure? ma sure 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 troppo ma non è che poi suri solo quella c'avemo si poi c'avemo due pezzi si vabbè e quella è quella sicuro che cazzafita si direi che è questa ora mi servirà una mi servirà una pipe scusa senza pipe dove la metto poi eh non lo so vabbè non lo so ce l'abbiamo di là cosa? no no non lasciarmi no ma perchè alla fine no ma perchè non posso mai fare un episodio senza che qualcuno mi lasciva solo no no ma che cos'è questa storia nooo no 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 banana oh c'è gente ma non mi importa muori muori ehi tu levale le canne di dosso citazione che cosa hai detto niente citazione a marcus crohn Nel momento in cui... C'è proprio... Ci hanno rubato le canne sti tizi Chi? I zombie, perchè li ho attaccati Ho battuto le canne Loro per stizza le hanno riprese penso Ah no ok le ho ripiazzate Tutto a posto si si E' fatta E' fatta Vai metti l'ender chest L'ho messa Quante lampo hai? 8 Tu hai detto che ne facevi tante? Aspetta aspetta che cacchio fai? Bella sta lampo Ma quanto è lampa Mamma mia che lampa sta bestia Ecco cacchio come cacchio fai? Così? Vabbè ma io non... Basta Uh è cresciuta è cresciuta però non fa Eh no terzo blocco Ah si E quindi dopo sembrerà davvero una Una fama di cocaina Ha voglia Pure con tipo le luci dei riflettori Tipo messe nei... Si si Aspetta aspetta Facciamolo dall'alto allora a sto punto Io ti metto i blocchi E tu le posizionerai qui 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 E cacchio ma comunque... 1 2 3 4 5 Qualcosa del genere Motorino 125 sai Vabbè dico con motore tipo Ma scusa ma non illuminano è ancora tutto buio qua sotto Eh perchè sono troppo alte Aspetta aspetta Facciamo così Dai passiamo di due blocchi Piazza un blocco di terra sotto ogni lampa Si si Dopo cancelli la lampa Cioè che non cancelli la lampa Così Premo cancio Oh Non riesco a piazzare Un blocco di terra Si vede che siamo pro Allora Facciamo questo Ma che cacchio? Vai Oh fermo Zuriel no Usi Che sta a fare? Niente Ok Ho fatto la mia f***a Ho fatto Ho fatto Ho fatto Ho fatto I Mai Non No Prezzate Prezzi di terra Va bene Perchè? Eh so So rari Perchè Non è vero Eh no Che c'è Come no Eh no Devi alzarti un po' in volo Ecco la tra fa a pensare Ah sempre con una cagata che sembra Si 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 E prova E metti Ma che Quante cacchi piace dai Ah è vero ne è otto Ah ma ok sembra che vada quasi bene e mettiamone anche i lati però tipo qui ma facciamo con dei fence no ma che fence mettiamola così no e non illumina lo stesso troppo alta no no si che illumina ah si questa è più alta di un blocco mannaggia te e vedi che qua non arriva la luce e mettiamola oh senti ma ci riesco quando il sky fall è vento no per stare in tema sai no è così uno più basso ma che cos'è poi pure più spostato me sbaglio si di uno no zitto no sono scemo è diverso ma no ma spostalo ma forse è fatto bene però eh a spostarlo e beh allora spostalo il diagonale però tipo oh madonna tua no 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 non così così ecco fermo ecco il pannele è più alto no ma no 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 ok ok questa è la distanza buona distanza di sicurezza mandando cazzo le fatti parti i pezzi di terra per riuscire a metterlo la dalla sugar cane guarda che non si cancella mica no aspetta mi sa che l'ho sbagliata un po' mi sa che non è perfettamente dove vorrei che fosse e invece si lo è eh ma così almeno illumina ma aspetta ma non è quadrata sta cosa allora ah no è vero la chiocciola aspetta ma io non ci sto a capire che cazzo sta che cazzo hai fatto però eh si vabbè ma se si esce ma si esce è di due sta cosa che cosa lascia i due blocchi ecco mettilo qua e qua ne stai a lasciare uno solo eh ma si perchè è rettangolare non è quadrata la chiocciola è fatta di rettangoli non di quadrati ma poi non è la stessa altima ma che cosa stai facendo ma perchè madonna ma su ah è spostato no è uno portato però così e no è vero ma che cazzo dici no no ma si ma no ma su ma si ma dai oddio non si capisce più un cazzo eh metti lì eh ho capito e quindi mo dall'altra parte il do cazzo finisce aspetta eeeh vabbè si è simile è simile è un guru un guru del mondo un guru un guru aspetta ma allora è solo questo che fa 5 e 5 e 5 no mi sa che questo è sbagliato allora quanti blocchi sono? 1 2 3 4 5 ma se distruggiamo tutto rifacciamo da capo perchè? eh così dai why why ok oh cazzo è impossibile volare when you try to fly you die no scusa hai detto che erano 8 queste sono 8 in effetti quindi no please eh leviamo quella centrale allora aspetta mi servono due bones il che non sembra molto facile come cosa perchè ce ne abbiamo solo 18 ahah nice 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 gg nore gg nore regina ora c'è solo un piccolo problema uno uno che io mo mi serve che io mo mi serve attenzione no da appena 15 minuti no 21 scherzavo no anyway nel prossimo episodio metteremo qui un'altra un'altra automated fapping fable così possiamo fare fable il gioco dici? si si così possiamo fare le printable anche con le sugar cannes presente no il film del festival di cannes si il film del festival che cazzo ha detto? il film del festival ok eh no perchè fanno anche il film del festival dei film mi sembra ovvio comunque per questo episodio è tutto perchè c'è una cesta aperta? ah no che sei chiusa per questo episodio è tutto eh perchè c'è una porta sempre a tutta no what the fuck did you say ciao a turututututti oh cacchio ho iniziato a registrare con dxtory ho sbagliato tasto